Allora, bentornati all'ora solare, l'argomento che trattiamo è un argomento molto importante. Intanto parliamo della Fondazione Policlinico Gemelli che da 60 anni compiuti proprio quest'anno investe nella formazione, nella ricerca clinica per trovare le soluzioni terapeutiche, insomma per curare, se posso dire in un verbo forse ancora più affettuoso, per trovare tutto ciò che di più efficace, di più innovativo possa esserci utile, essere utile ai nostri cari. La campagna dei lasciti testamentari è una campagna molto importante, oggi ne capiamo di più, scopriamo di più, grazie a Francesco Landi, direttore delle scienze dell'invecchiamento del Policlinico Gemelli di Roma, la dico bene, e Massimo Renzi, dottore commercialista e curatore di un lascito testamentario che è andato proprio a favore di questa fondazione. Appare su questo cartello il numero che potete fare, lo 06 30 15 8282 oppure indirizzo internet lascititestamentari.policlinicogemelli.it. Lasciamo ancora solo per un attimo questo cartello. Allora, professor Landi, investire nella formazione e nella ricerca clinica. Il Policlinico Gemelli è una dinamo, è sempre, sempre, sempre in movimento perché quanto più si investe sulla materia, studio delle malattie, tanto più i pazienti un domani potranno lasciare l'ospedale o potranno vivere dentro l'ospedale dove già sono curatissimi ancora meglio. Quanto è importante questo vostro lavoro? Questo è veramente, credo, il nocciolo di quello che ci piace fare e che, devo dire, anche proprio sul piano strettamente mio personale, da più di 30 anni è dedicato alla geriatria, alla medicina interna dell'invecchiamento. Quindi capire non solo come stare bene e meglio quando siamo già anziani, ma soprattutto cercare di capire come arrivare a quello che oggi ormai tutti ospichiamo, a questa grande longevità, ma in buona salute. E questo lo facciamo attraverso la ricerca. Quindi l'utilizzo dei fondi, questo lo sottolineiamo, è un utilizzo che va esattamente in quella direzione? Prettamente ed esclusivamente verso la ricerca. Ovviamente questo significa investire in tecnologia. Pensiamo a quello che noi stiamo cercando di scoprire sempre di più, dei biomarcatori, cioè di quelli che possono essere dei marcatori che noi possiamo andare a dosare a livello del sangue e che possono essere in qualche modo premonitori di una malattia o di un declino. Possono dire, certo. Esattamente. E investire, ovviamente, questo credo che sia molto importante, sui giovani ricercatori. Oggi noi sappiamo la difficoltà che abbiamo in particolare nel pubblico e credo che avere la possibilità di accedere a questo tipo di fondi e quindi di finanziamento della ricerca sia quella che tra l'altro è la ricerca che ci rende liberi. Perché molto spesso la ricerca è finanziata dalle case farmaceutiche, da enti privati, che sempre, per carità, è una ricerca libera. E noi siamo come ricercatori, per definizione, liberi di cercare di capire qualunque cosa. Ma in questo modo ancora di più. Lo si è ancora di più. Dottor Renzi, allora, la parola lascito testamentario a taluni fa venire in mente tutto quello che ho che va benissimo. Anzi, quando si riesce, lei ora ci racconterà, a dare tutto quello che si aveva in vita è un valore a 360 gradi. Ma il lascito testamentario da che cosa può essere composto? Ma innanzitutto non bisogna disporre di cifre ingenti o beni di lusso. Qualsiasi cosa che venga lasciata ha un valore molto importante. E il valore sociale proprio dell'ascito, ci sono molti dati che ci aiutano a comprendere l'importanza dell'ascito, di qualsiasi l'ascito. Qualsiasi. Quindi se si ha un oggetto di valore, una collezione di libri, se si vuole lasciare quel... Io quando dico poco, dottore, non intendo il lasciare poco, ma quel piccolo che a noi sembra piccolo va nel salvadanaio di un grande valore. Assolutamente sì. Qualsiasi cosa venga lasciata e donata alle associazioni, in questo caso stiamo parlando ovviamente del Policlinico Gemelli e la ricerca è una cosa molto importante, è un aiuto sicuramente che viene dato. Allora signori, continuiamo tra poco a raccontare anche ciò che è accaduto. C'è stata una persona che ha donato tutto ciò che aveva. 06 30 15 8282 o 30 15 8282 come voi lo vogliate leggere, oppure potete andare sul sito lascititestamentari.policlinicogemelli.it. Se non avete il computer, mi rivolgo alle persone magari un po' più grandi di età, sicuramente i vostri nipoti, i vostri vicini possono darvi indicazioni maggiori. Intanto noi in queste immagini, in questo che in gergo tecnico si chiama spot e che in realtà è un racconto molto importante, vi facciamo capire ancora di più di quanto importante sia il lascito testamentario per i Policlinico Gemelli, guardate. Nella mia vita sono stata tante cose, un'insegnante attenta, una madre permurosa, una donna combattiva. Nella mia vita sono stata fortunata per le persone che ho incontrato, per quelle che mi hanno fatto ridere, piangere, amare. Nella mia vita ho insegnato compassione ai miei alunni, ma sono stati i bambini malati che ho conosciuto a darmi le più importanti lezioni di vita. Per loro voglio lasciare un segno profondo, un gesto d'amore per combattere e sconfiggere il cancro. In questa vita sono stata tante cose. Nella prossima, grazie al mio lascito, sarò una ricercatrice e lotterò a fianco dei bambini malati. Sostieni anche tu la ricerca, fai un lascito testamentario al Policlinico Gemelli. Allora, queste immagini bellissime, questo racconto, è stato realizzato prima che la signora Marina Martelli, dico bene dottor Renzi, prendesse questa decisione. Sembra lei la persona nello spot. Questa signora, ex professoressa, che decisione ha preso? Lei ha curato tutta questa operazione. Sì, esattamente. Allora, la professoressa Marina, in vita, era sposata, ovviamente, e poi è rimasta vedova. Il marito è stato curato presso il Policlinico Gemelli, quindi hanno cominciato a frequentare il Policlinico, è stato curato lì e successivamente anche lei, ammalandosi, essendo, soffrendo di una patologia cardiaca, era cardiopatica, è stata in cura sempre presso il Policlinico Gemelli. A lei è rimasta, diciamo, ben, come si può dire, insomma, le cure che sono state date, la gentilezza che il personale ha riservato per lei e le attenzioni che ha avuto, gli hanno fatto maturare, ovviamente, questa voglia di dare una mano a queste persone, no? Quindi si è rivolta a me per dire, ma io come posso fare? Essendo vedova, non avendo figli, non avendo parenti in vita, in linea retta, quindi molto stretti, quello è un altro capitolo importante. E niente, è venuta da me e insieme abbiamo capito, abbiamo messo nero su bianco come lei poteva aiutare e ha deciso di donare, di nominare suo eredito universale il Policlinico Gemelli, quindi lasciando tutto quello che era i suoi beni, il suo patrimonio al Policlinico Gemelli e alla ricerca, ovviamente, al Policlinico Gemelli e per la ricerca. La signora non c'è più su questa terra, ma ha indossato quel camice da ricercatore e grazie a lei ci sono persone che oggi studiano di più, apprendono di più, possono fare di più anche per i malati. E ci saranno persone che avranno forse delle cure migliori, immaginiamo. Che meraviglia. Dunque, professor Landi, cos'è la Longevity Run? Sembra un po' forzato, ma in realtà è l'espressione di quello che abbiamo detto, cioè portare fuori dal Policlinico Gemelli tutto quello che in qualche modo dentro il Policlinico Gemelli facciamo, in particolare prevenzione. Quanto è importante fare prevenzione? Per fare questo, di nuovo, abbiamo bisogno di ricercatori. Longevity Run è una manifestazione che noi abbiamo portato già da sei anni, ma quest'anno l'abbiamo portata in giro per l'Italia tra nord e sud già in otto tappe, finiremo a Roma il 20 ottobre, ma è, passatemi il termine, un pretesto, un pretesto per creare un evento, creare un villaggio della salute e c'è un dato che mi preme tantissimo. A differenza di molte altre manifestazioni, noi raccogliamo dati, noi facciamo ricerca, non è solo donare, e già sarebbe più che sufficiente, una visita gratuita, fare prevenzione, sensibilizzare le persone che ci incontrano, ogni volta tantissime persone, portare le persone a fare la corsa, la ginnastica e quant'altro, ma studiare una popolazione, in questo caso fuori dall'ospedale, di nuovo, missione di terzo settore dell'università e del policlinico, per capire qual è il fenomeno, io non dico più dell'invecchiamento, ma della longevità, perché noi oggi sappiamo che quei geni che fino a un po' di tempo fa pensavamo che determinassero il nostro invecchiamento, incidono per poco, non più del 20%, tutto il resto dobbiamo capirlo. Possiamo fare molto anche noi. Dottor Renzi, l'ascito testamentario solidale, è difficile parlarne? Non so, a lei sarà capitato di parlarne anche con altri clienti, altre persone che si rivolgono al suo studio commercialista, qual è l'ostacolo, seppur momentaneo, perché secondo me è solo un ostacolo iniziale, però a volte è un po' più difficile da superare in questi casi. Beh, diciamo, il primo ostacolo è quello di parlare del fine vita, quindi ognuno ha delle difficoltà, è proprio emozionale il primo ostacolo. Il secondo ostacolo è quello che molte persone pensano di privare i propri cari di un qualcosa e quindi andare a ledere magari qualche diritto dei propri cari. Ma bisogna far capire che anche poco, lasciando poco comunque, non si viene a sottrarre qualcosa ai propri cari, ma bensì, visto che la ricerca è per tutti, è un valore aggiunto che è anche a favore dei propri cari. È un investimento in umanità e cura. Assolutamente. Quindi io credo che, ma questo è ben più bravo lei a farlo poi tecnicamente, credo che facendo comprendere questo le persone, poi scatti quel meccanismo di sapere che si fa parte di un unico grande gruppo, che è quello che sostiene i ricercatori, i giovani, perché curino anche le persone più anziane. Poi alla fine questo è ciò che si deve fare. Chiamate questo numero 0630158282, rispondono con la consueta, fatemelo dire, grazia e umanità e gentilezza e professionalità dal Policlinico Gemelli, lo dico perché chiunque abbia avuto frequentazione con questo luogo sa che sia esattamente così, oppure lascititestamentari.policlinicogemelli.it. Io vi ringrazio tantissimo di essere stati con noi, grazie veramente. Allora, l'ora solare da lunedì al venerdì alle 12.20 siamo tornati più forti che mai. Grazie. 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 Grazie.